Ciao, mio nome è Maurizio Guevara e sono qua per presentarti in un video molto corto del progetto di Omega Pro. Prima di tutto ti dico che io faccio business online da ormai una decina d'anni, quindi sono molto esperto in questo settore e sono parte di questo progetto perché veramente ho fatto tante ricerche, ho anche degli amici all'interno di questo progetto che già fanno parte da tre anni e mezzo, tre anni, due anni, è un progetto che veramente è molto riconosciuto in tutto il mondo quindi sono molto felice di esserne parte e di fare questo video. Omega Pro è un fondo di investimento fondato nel 2018, è pioniere nel mondo del trading online, forex e crypto. È un fondo di investimento che prende il nostro capitale, il capitale che noi vogliamo investire e lo moltiplicano in poche parole facendo trading. Per chi non sa cosa è il trading, trading vuol dire vendere e comprare euro, dollari, criptovalute, azioni, eccetera. Se ne occupano soprattutto di vendere e comprare le monete principali come euro, dollaro, loro comprano quando sono basso e vendono quando sono alto, così riescono a avere un rendimento economico dove loro guadagnano una parte e l'altra parte la danno a noi perché noi comunque diamo a loro il capitale e loro prendono il capitale di tutti noi, lo lavorano e ci danno un rendimento mensile. È regolamentato dalla FCA, andate a cercare su internet che cosa è, voi capite che questo è una cosa molto positiva. In Inghilterra sono molto severi chi apre una compagnia, quindi questo ci dà molta tranquillità. È molto importante che voi sappiate che loro lavorano con dei broker certificati e regolamentati. In Omega Pro collaborano con dei trader professionisti che loro si occupano di moltiplicare il nostro capitale. Il bello è che noi possiamo monitorare facilmente i loro risultati ogni giorno, andiamo a vedere i risultati che hanno con il nostro capitale e possiamo ritirarlo quando vogliamo. Quindi questo a me è piaciuto veramente tantissimo. Quando io vado ad entrare in un progetto, vado a studiare i proprietari, chi sono loro, qual è la storia di ogni proprietario, quindi loro sono persone riconosciute a livello mondiale. Andreas è CEO dell'azienda, economista, investitore, è uscito anche sulla rivista Forbes. Poi c'è anche Juan Carlos, il manager dell'America Latina, ex presidente della Camera di Commercio del Perù, ex direttore della banca di Wells Fargo, eccetera. Quindi sono personaggi importanti. Dilawar C, fondatore dell'azienda. Insomma, anche lui è uscito sulla rivista Forbes, che gli escono gli investitori riconosciuti a livello mondiale. Poi Mike Sims è un personaggio che già io conoscevo da tanto tempo, dirigente dell'azienda, CEO del fondo New York Future Fund e coach certificato leggenda delle affiliazioni. Andate a cercare anche su Mike Sims. Parliamo di personaggi riconosciuti a livello mondiale, a livello di Donald Trump, eccetera. Sono persone veramente che ci danno una grande tranquillità per la loro esperienza. Pensate che ad esempio Mike Sims ha più di vent'anni di esperienza nel mondo di investimenti, di fondi di investimento che ne ha aperto tantissimi nel trascorso degli anni. In questo progetto noi possiamo investire, aprire un portafoglio dai 1000 dollari ai 50.000 dollari. Possiamo aprire anche più di un portafoglio. o amici che hanno aperto un primo portafoglio, ad esempio da 5000 dollari, quando hanno visto che tutti i giorni li pagava il capitale, che vedevano nel back office tutti i giorni il loro guadagno, dopo una settimana, due, tre, hanno aperto un'altra posizione di 10.000. Insomma, ognuno col capitale che può, naturalmente. Quindi puoi aprire tutte le posizioni che vuoi. Ce ne sono due modi per moltiplicare il nostro capitale in questa compagnia. Ce ne sono due, ok? Il modo è che vedi le cose molto semplici. Il primo metodo, il primo modo per investire in questa compagnia e moltiplicare il nostro capitale è l'interesse semplice. Qua abbiamo un contratto, come ho già detto precedentemente, sono contratti di 16 mesi, con il rendimento massimo del 44 al 60%. Cosa vuol dire? Qua, come stiamo parlando di trading, quindi loro, come ho detto prima, vendono e comprano euro, dollaro tutti i giorni, quindi guadagnano un capitale, ma non è un capitale fisso. Loro non possono dire guadagni fisso il 60% tutti ogni 16 mesi. No. Però se c'è una media dal 44 al 60%, ti danno in più del tuo capitale. Allora, hai la possibilità di ritirare il tuo investimento mensilmente. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu, ogni mese, loro ti danno mediamente il 9% del tuo capitale più il guadagno. Quindi in totale il 9% mediamente. Può darsi l'8 e mezzo, il 10, il 9, però mediamente è quello. Ti danno una parte del tuo capitale e una parte dei tuoi interessi. La possibilità di prelevare il tuo capitale investito, in qualsiasi momento puoi ritirare tutto, tutto il capitale con una penale del 30% di quel capitale. Se vuoi ritirarlo tutto quanto. Se invece vuoi ritirare ogni mese solamente una parte del capitale più una parte del guadagno, che mediamente è il 9%, come dicevo, puoi ritirarlo ogni mese. Questo con l'interesse semplice. Facciamo un esempio. Tu investi 10.000 dollari, con 10.000 dollari e loro ti danno mediamente 900.000 dollari al mese. Ok? Infatti ho amici che hanno investito, quelli che hanno investito 10.000, loro tutti i mesi ritirano i 900.000 dollari al mese. Quindi è come avere un stipendio in più. Questo è fantastico. Anziché lasciarli in banca, che là non ti danno niente, qua ti danno una mensilità e in 10 mesi letteralmente hai recuperato il tuo capitale. Fate il calcolo. Perché siccome ti danno circa 1.000 dollari, 10 mesi hai recuperato il tuo capitale e gli altri mesi sono solamente guadagni. Il guadagno approssimativo è mediamente di 4.400 ai 6.000 dollari in questi 16 mesi. Questo è il guadagno. Quindi è quasi il 50%. Alla fine dei 16 mesi il totale restituito è da 14.400 ai 16.000. Quindi è più o meno quella cifra. Come ho già detto precedentemente, il costo di ogni licenza sono di 49 dollari. Quindi se ha una licenza di 10.000, sono 10.049. Adesso andiamo a parlare del secondo metodo per entrare e essere parte di questo progetto. Si chiama interesse composto. Questo a me è piaciuto tantissimo e con questo metodo ho aperto diverse posizioni. Allora, questo del contratto è concordato sempre a 16 mesi con rendimento massimo del 200%. Anche qua, il discorso di prima, loro mediamente ti daranno il 200% del tuo capitale. La possibilità è di prelevare il capitale investito in qualsiasi momento, come anche la precedente, tutto il capitale, potrei tirarlo con una penale del 30% del capitale iniziale. Andiamo a fare un esempio di 10.000. Tu hai investito 10.000 dollari, quindi alla fine dei 16 mesi ti daranno 20.000 dollari più i tuoi 10.000 dollari. Quindi in totale ti daranno 30.000 dollari. È un solo ritiro al sedicesimo mese. Ok? Qua lavorano con l'interesse composto. Quindi se tu hai all'inizio un esempio, una cifra media a caso, se tu hai investito 10.000, il primo mese 10.000, il secondo mese hai 11.000, al terzo mese 12.000 e così via. Quindi ogni mese è come una palla di neve. Ogni giro che fa, ogni mese che fa, sono più soldi, perché loro lavorano con l'interesse composto. Sempre hanno più soldi per lavorare e per quello alla fine dei 16 mesi hanno raggiunto una cifra importante e per quello loro ti possono dare il 200% del tuo capitale, perché tu non stai ritirando tutti i mesi, ma le stai lasciando lì e loro hanno la possibilità di avere più soldi per lavorare. Ricordiamoci sempre che costa 49 dollari aprire anche qua l'investimento, quindi si apri 10.000, sono 49 dollari il costo dell'apertura dell'investimento. Bene, spero che hai capito bene questo progetto, è veramente molto semplice, due modi di investire il tuo capitale, puoi scegliere uno dei due. Io ti consiglio tantissimo, perché a me è capitato di non ascoltare persone che non hanno raggiunto obiettivi importanti in questo tipo di business o in questo tipo di investimenti, perché io quando ho cominciato a lavorare online dieci anni fa, amici, familiari molto stretti mi hanno detto, Maurizio, ma tu cosa vai a investire online, cosa vai a fare questi tipi di business che tu non sei capace, tu sei un ballerino, tu appena appena sai accendere un computer, accendere un telefono e basta, mi dicevano, in modo affettuoso, c'è i miei familiari che mi amano tanto o i miei amici che mi amano tanto, loro lo facevano per protezione, ovvio che non lo facevano di cattiveria, ma io penso che uno deve uscire dell'area di comfort, come dice il detto, è da pazzi, continuare a fare le stesse cose credendo che avrai risultati diversi. è importante che tu ci provi, come dice Valentino Rossi, il grande motociclista italiano, pensa se non ci avesse provato, quindi il mio consiglio, prova se vuoi guadagnare tanto, ovviamente devi investire di più, se vuoi provare solamente, investi di meno, insomma 1000 dollari, 5000 dollari, investimenti più piccoli, però almeno provi e guadagni già i tuoi soldini, io personalmente ho investito una cifra già decente la prima volta e poi dopo una settimana ho investito, ho aperto un'altra posizione, dopo un mese ho aperto un'altra e così via, perché avevo capito che era una grande opportunità, avevo capito quando ho cominciato a vedere che ti pagavano tutti i giorni, quando ho visto, insomma vedevo con i miei occhi e cominciavo a prelevare, ho visto che comunque era un progetto serio, ho visto che, insomma, vedevo con i miei occhi tutto quanto, quindi ho preso molta fiducia e come mi dicevano i miei amici, cioè, è un progetto che conosco da tanti anni, che pagano tutti i giorni, che puoi ritirare il tuo capitale, insomma, quando vuoi e questo mi ha dato molta sicurezza, quindi il mio consiglio per concludere, non ascoltare le persone che non hanno raggiunto gli obiettivi in questo tipo di business, perché altrimenti potresti pentirti, non domani, buttati, provaci, e non domani dirai meno male ci ho provato e sono veramente felice, perché questa è la reazione di tanti amici miei che sono già all'interno del progetto, questa è la mia reazione e per questo ti dico, non stare lì a pensare troppo, ma buttati, fallo e vedrai che ti aiuterà tantissimo economicamente per raggiungere i tuoi obiettivi. Ti auguro una giornata meravigliosa e ci vediamo all'interno del nostro gruppo. Ciao!